Vai, vai. Buonasera, sono Felice Viasco di Makers, siamo gli organizzatori di questa edizione varesina di ville, vini e sapori. In questo format che noi intendiamo esportare e portare un po' in tutta Italia, alla ricerca e visitando le splendide nuove storie italiane, portando in questi monumenti, queste ville, meravigliose come appunto è questa Villa Ponti di Varese, la buona gastronomia e l'ottimo vino. Grazie.